Il senso importante, il confondibile del nostro doppiaggio nell'epoca d'oro all'odierna, Glauco Onorato, prego sul palco, buonasera, buonasera, quanti anni ci devo, certo, manfredo E' alto 4 metri e mezzo, prego al centro, prendo uno, è la conferma di un vero trionco Io c'ho un amico al mondo fuori, c'ho 86 anni, lui parlava, io cercavo in tutti i modi di copiare quello che lui faceva perché lui faceva quello che lui faceva Poi non era rapide, un'altra passione, no perché era paura di Enel, e lui prego, dice che Mastroianis diceva Che sta attenta quando ti danni i premi a forma di rapide, allora io chiuso con ansia No, no, per peccato, per prima di rapide, poi se tu le considerate che c'è stanno i buchi per respirare Assessore, è che assessore Grazie a tutti 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 Grazie a tutti